mi sono appena svegliato quando mi sveglio non c'è né per il suo io ho una colazione incredibile nino non mi sveglia mai io ieri sono messo a prendere un po di carne nino devi svegliare subito paese il tico di no scusi salve però fai due anni a me risolverei a prenderlo no la pelle da scopo che provo provano diciamo avrei bisogno di un brano non si parla di almeno altro pezzi di grano anzi sei pezzi di grano ma lo fatevi vedere no era c era tre 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 pezzi di grano si un attimo prendi soldi cioè tre 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 sei no no varevo sei pezzi di grano ok quindi 6 9 12 15 18 18 18 pepito ma quindi quanto ha detto scusi dei giotto 118 nino dov'è ma tenga su inutile grano e se ne vada per favore ma perché hai messo le zucche qua poi mi sei un restort ma c'è un sacco di roba ma basta e otto le pillole energetiche sono un occhio di ragno zonca perché i cartelli possono servire e attacchi via e via e via allora visto che io sarò andava sempre a quel paese eh devo servire su tutti i clienti e io come vedete io sono ruido così tanto perché sono andato a fare qua sono andato a fare anche se questa carne questa carne qua in realtà l'ho trovata in giro perché morivano le pecore ma secondo me c'è qualcuno che le uccide no ma il cavallo non vuoi ucciderlo ma c'è un cavallo c'è un maiale dentro e vabbè che strano ancora nessuno al negozio e comunque abbiamo messo due tavoli uno prima e uno dopo ma non ce ne erano lasciate la testa la testa eh sì la testa è molto merda eh allora no intendo i capelli signor che guarda che i capelli un po' serve la piasta perché se no fanno troppo schiave un'anguria è appunto intera mi sa che non c'è papa allora eh ma allora un'anguria è intera no io la posso fare se vuoi faccio un nome pezzi cinque pezzi eh aspetta dovrei averle in magazzino si infatti ho dieci no nove pezzi quanti ne ha quanti ne ha otto e nove via se lo metti nella crafting table diventa un'anguria intera quindi la roba le ballole no no sono buona solo che voi fate schifo mi prendete in giro mi prendete in giro i miei clienti dicono che sono brutto è pure bello bello mmm la seconda sarebbe il miglior c'era una spa c'è tutto quello con la sciapurana con la sciapurana non ci metto nulla prendiamo il bambu prendiamo il bambu prendiamo il bambu mmm e quanto avrebbe costo centomila e non c'è io centomila ma questo è più alto e quello dove si entra ma è molto più bella dell'altra mmm 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 però è lontana dal lavoro mmm cioè l'onda lontanissima in effetti in effetti mmm mmm sa che dico mi ha convinto vado a prendere i soldi minu guardate se si sente ma anche quella cosa quella casa costa 150 ma già prenotata oh allora 128 130 ok tanga tanga ok eh aspetta manco l'altro stacca signore no madonna signora no no però dovrei aspettare nino ecco ne lo so ok una volta che faccio qualcosa da solo posso farlo tranquillamente allora grazie eh su di te eh quella sì eh due bistecche vai ma non c'è nessuna patata cruda vabbè eh ok 100 150 grazie 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 ma quale sto 128 aspetti 1 2 non mi fa troppo 1 1 1 130 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 5 6 7 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 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 6 6 6 6 7 6 6 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 19 20 20 21 20 22 22 c'è o perchè non possiamo essere stati di sicuro io non posso essere stato che anche mi faccio metto le tnt nella mia stessa c'è la mia stessa ma lì la stessa cosa nino luca luca non ti può manco mettere in creativo quindi no le tolte dove stanno? vabbè ti avessi nino le tolte nica ma dove erano? le tolte stavo vicino la cosa oh me non è neanche tenete accorto se no la prossima volta c'è ma la prossima volta non lo invitiamo a Roberto cioè c'è ha fatto esplodere la villa raga perchè voi non la sapete l'ho tagliata quella parte praticamente nell'intro finale ci abbiamo perso tempo perchè dovevamo rimontare la villa che roba è distrutto no appunto e quindi abbiamo perso tempo per l'intro finale luca se ne doveva andare e quindi non abbiamo fatto nemmeno l'intro con luca perchè lui lui voleva fare il ladro poi mettere le tnt a capo di cacchio ok ci va a esplodere il mondo eh allora vado nella mi compro il minecraft dungeon vado nella sua vanilla di minecraft dungeon cioè nella sua storia e li uccido vabbè ripartiamo allora lupo vai a Lila ok Nino mi è arrivato solo un pollo uno guarda uno un pollo allora io uccidere allora quando ho detto uccidere sono caduto giù non so perché no ma hai detto che volevo mangiare il tavolo stavo rigiando e allora vorrei una cossoletta sicuro si può fare no ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho stiamo parlando per il telefono niti sento sei in via voce eccola bella fresca bella ok bella fresca io non servizio non mi sembra molto buono sinceramente ecco qua bella fresca per terra è un cappi fresca come ne piace arrivederci mi ha l'incredibile io non vedo nessun animale però c'è le pecore che non abbiamo comunque comprato ma c'è anche la lana che costa e queste pecore sono un po' nino avevi visto le pecore sono un po' ma le volpi si possono bene solo con il guinzaio il guinzaio c'è lì uno o due però le volpi dove le mettiamo scusate e me non so dove grazie buongiorno 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 chiamare il suo amico perché non può andare dietro non puoi andare dietro non puoi venire dietro va a terra non puoi venire ha detto il signore ha detto il signore eh sì dovrà vedere un attimo aspetta allora dove aspettare il signore io non ho visto nessun animale allora dove sporre un po' tutti tutti i raggi ma quelli fuori non quelli dentro non lo sappiamo quelli fuori non quelli dentro che già li sappiamo quelli dentro è italiano abbiamo aggiunto altra lana se volete fare cose vostre con la lana non so nel caso venite fuori abbiamo aggiunto di questi nuovi animali ovviamente ne abbiamo ordinati anche altri ma arriveranno fra molto tempo ma capitolino il venitore abbiamo aggiunto cavalli abbiamo aggiunto cavalli ma le volpi ce ne sono state un po' in cina si muoveva con la volpe e poi tornerà dentro il cinto e sono fatte così due giampe senza il mio pollo il mio pollo lei ha rubato il mio pollo lei ha rubato il mio pollo è un pollo randaggio non è quel po' ma dai saltatura è la madina però ma che cacchio è ma che saltano come le faine vabbè vabbè le volpi gatti asini e cavalli eccetera eccetera che peigni no quello nero mi piace di più quello nero eh no uno nero uno bianco la juve eh la juve ma noi abbiamo dei cani fra aspetta aspetta e poi iniziano a a litigare ma i più sono pure piccolini allora signor quanto valgono quanto costano i gatti ah allora i pezzi erano mesi stavo dicendo ma io penso che un gatto può costare anche abbondantemente anzi anche normalmente diciamo 30 euro quello piccolino quello grande 15 euro allora ma c'è c'è una recensione ma mi scusi 30 euro è esagerato ma spegno devo andare a prendere i soldi ma 30 30 euro per un gatto e che è successo allora quindi 30 la capite e le do al vostro detto ma 20 non 30 capite che non faccio gli prezzi ma sei sicuro stai calmo signore ma non me ne fai se tu ricorre così è normale che scappa sembra che lo vuoi stuprare oh è il mio dove è fermati 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 dove dove è il mio no fermati tieni sta qua sta là a destra a destra vabbè quindi lo compra le dolce e le dolce almonio se ne va in Cina il mio gatto ok quindi 30 euro incassati perfetto per il piccolino mentre il grande costa 20 non si preoccupi ma andiamo a prendere il guinzaio oh è troppo veloce oh non si può e raga qualcuno mi porta del salmone non vuoi legare i piccoli a te zitto allora facciamo 20 20 ma scusa una dici di lei il prezzo 20 e se vuole il piccolo deve avere un altro gatto e poi li devi farà copia ci seguirò va bene costa 20 comunque senza ma perché adesso prendere il gatto ma il gatto mi ha fatto una vita incredibile ma lì c'è la vista dell'altra ha preso il gatto mi sto bene mi scusi la posso anche denunciare mi scusi raga ma dovete parlare tra di voi ma non però c'è due sole cosa mi muta non è che vi posso sentire a 87 metri di distanza comunque ma mi stai ascoltando mi sembra ragazzi questo video può finire quale schiacciare 3 episodi e ciao